Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video, oggi parliamo di lei E sì, finalmente anch'io posso parlarvi della Canon EOS R L'ho provata approfonditamente dopo un po' di tempo che ho passato con lei Quindi posso finalmente parlarvi e darvi le mie considerazioni in merito a questa camera Facciamo una piccola introduzione a quella che è la Canon EOS R Canon ha presentato il suo nuovo sistema mirrorless Che come molti già sappiamo era composto da tutta la gamma EOS M Ora invece per i professionisti ha deciso di rilasciare questa nuova fascia, questa nuova categoria di camere Con la dicitura R, infatti la prima ad essere nata è proprio la Canon EOS R Ora questa camera soffre un pochino il problema di essere la neonata O meglio la prima della generazione Ma Canon in alcuni punti è stata molto ma molto furba Perché ha sfruttato il meglio delle mirrorless con il meglio delle reflex che aveva già sul mercato Questo perché questa camera monta esattamente lo stesso sensore della 5D Mark IV Sensore molto ma molto apprezzato dai professionisti E che quindi ha dato un maggiore, un'enorme forza a questa camera Ora veniamo subito al paragone, subito alla domanda Ma può essere sostituita un corpo full frame di casa Canon? Beh signori assolutamente sì, basta guardare i risultati Partiamo dal concetto che Canon insieme a questa nuova gamma di camere Ha introdotto anche un nuovo attacco, detto attacco R Ora l'attacco R rispetto all'attacco F è molto più grande Naturalmente era un passaggio dovuto questo dell'aggiornamento dell'attacco Della gancia delle varie ottiche Perché purtroppo nel tempo abbiamo sempre più bisogno di connettori e pin Per poter trasferire delle informazioni tra la camera e l'ottica Diamo un veloce sguardo a quello che è il corpo macchina Poi dopo parliamo della lente Perché questa è una lente R direttamente attacco R Questo perché Canon ha presentato una serie di lenti già con attacco R Mentre poi ha rilasciato un adattatore che ho qui con me Che è questo qui, che è praticamente adattatore ufficiale Canon Che permette di agganciare qualsiasi lente EFS all'attacco R Quindi proprio per tutti i canonisti che hanno un parco ottiche completo Così sarà possibile poter, se riesco a rimettere il tappo Poter utilizzare tutte le loro lenti Anche perché è da considerare che Canon e insieme a Nikon Hanno il parco lenti più grande in assoluto Non solo il parco lenti fotografico Da considerare che l'attacco FS viene utilizzato anche vicino ai corpi macchina video e professionali Quindi anche ad esempio vicino alle RED sono montati Ci sono gli innesti EF Quindi l'innesto EF che probabilmente continuerà ad esistere Per altri scopi Mentre per questa nuova gamma di lenti Probabilmente nel futuro vedremo soltanto ottiche R Ora diamo uno sguardo al corpo macchina Come dicevo abbiamo l'attacco molto più grande Quindi questo mount molto più grande completamente in metallo Che l'attacco R Abbiamo un ottimo grip qui di lato A destra abbiamo lo sportellino per poter inserire una SD Soltanto una Per chi vuole il doppio slot purtroppo questa macchina non lo porta Sotto vanno batterie Che porta le stesse batterie della 5D Queste qua Poi abbiamo sul retro invece un paio di cose molto interessanti Prima di tutto abbiamo un display orientabile di 180 gradi da 3,1 pollice Un pochino più piccolino rispetto a quello della 5D Mark IV Ma va più che bene perché è orientabile ragazzi Quindi questa è una delle funzioni più migliori Abbiamo naturalmente l'EF digitale Andiamo dall'altro lato abbiamo un po' di connessione L'HDMI, l'USB che dovrebbe essere di tipo C se non vado errato Perché questo non lo ricordo sia esattamente Ingresso microfono, ingresso cuffie E poi abbiamo l'ingresso invece per l'intervallometro Sopra abbiamo un... Ah, dietro abbiamo questa poi Che è una delle più grandi figate Che è praticamente uno slider digitale personalizzabile A cui possiamo dare delle diverse funzionalità Interessante ma scomoda la posizione Probabilmente anche la sensibilità di passaggio di questo strumento Andrebbe un attimo rivista Poi andiamo sopra Perdiamo il joystick per attenzione Perdiamo la rotellina qui sotto qui Ma acquistiamo questa nuova funzionalità Sopra invece abbiamo il connettore on-off Uno schermino, un monitor Che ci riepiloga tutte le informazioni Non abbiamo la rotella per selezionare le modalità Ma abbiamo un pulsante per selezionare le modalità Le due rotelle funzioni Un pulsante per lockare Quindi bloccare le impostazioni della camera Pulsante di scatto E pulsante di registrazione Ma l'altra cosa intelligente Del motivo per la quale io sto mantenendo La camera senza obiettivo È il fatto che tutte le mirrorless soffrono di un problema Il fatto che quando togliamo la lente Il sensore è completamente esposto In questo caso invece Canon ha fatto una cosa molto molto intelligente Ossia coprire il sensore Quando apriamo e togliamo l'obiettivo Quando spegniamo la camera Il sensore viene coperto Così facendo non entrerà polvere indesiderata O sporco sul nostro sensore Quindi è una scelta davvero molto intelligente Parliamo di lenti Lenti Io ho in kit il 24-105 Questa camera l'ho presa in prova da Fotoema Vi consiglio di andare a farvi una passeggerata Sul sito www.fotoema.it Trovate tutti i link qui sotto in descrizione Abbiamo disponibili Per ora sul mercato Soltanto poche lenti Con attacco R diretto Ma ne stanno arrivando altre Ad esempio il 24-105 Che ho la lente F4 Che esce È uno dei kit della EOS R Già c'è il 50mm 1.2 Se non vado orato ci dovrebbe essere ancora un'altra lente Che però forse è l'85 Non vado se non vado errato Ma non lo ricordo bene Sono ancora poche per ora Ma sono di nuova concezione Perché? Ora vi mostro una cosa Questa lente ha tre ghiere La prima naturalmente è per estendere e muovere la focale La seconda è per il fuoco Che è infinita Tra le altre cose E poi abbiamo una terza ghiera Che si sente Va scattini Questa perché è completamente personalizzabile da menu E possiamo aggiungerci un po' di funzionalità Che possono esserci comode al volo Ad esempio i diaframmi Voglio modificare i diaframmi senza utilizzare il pollice Possiamo farlo semplicemente girando questa Molto ma molto interessante Ora pregi e difetti Ci sono dei pregi che naturalmente Prende tutti i pregi della 5D Mark IV Che è una grande macchina Prende la Color Science di Canon Che è una delle scienze del colore più bella Con tanta esperienza dietro Perché c'è tanta esperienza dietro la scienza del colore di Canon Ma ci sono delle cose che a me per esempio Fanno un pochino storcere il naso Allora fotograficamente Parliamo comunque di una macchina che scatta in 30 megapixel Quindi un ottimo corpo macchina per i fotografi Probabilmente questa camera nasce proprio per andare a sostituire la 5D Mark IV Proprio per i professionisti che fanno sia foto che video Perché porta con sé quasi tutte le migliorie della 5D Mark IV Ma si porta con sé anche tutti i problemi della 5D Mark IV Parliamo ad esempio in ambito video In ambito video Per la quale io questa macchina ho voluto testare e provare Perché utilizziamo per esempio in ufficio da me Tutte macchine Canon E io ho pensato Dato che utilizziamo tutte macchine Canon Avendo deciso di togliere la Sony Volevo prendere una EOS R Ho tutto il set completo di lenti Canon Ho detto dai E' un po' pesantuccio E' un po' grande Ma va bene Poi ho scelto altro E sapete il motivo e il perché Ma la problematica è che Partiamo dal presupposto che registra in 4K In Ultra HD In camera a 8 bit Registriamo in full HD A 50 fotogrammi al secondo A 25 E registriamo a 100 fotogrammi al secondo Nel famoso formato HD Che non sarebbe altro che il 1280x720 Ora la mia domanda è E se la sono posta in tanti sul web Mi rendo conto di non essere il primo a parlarne Ma perché Canon metti il 100 fotogrammi al secondo A 1280x720 Che c'è sulla 5D Mark Mark 4 Attenzione Ed è però un corpo a macchina Di 3 anni fa Oggi purtroppo Tutte le rivali e i competitor Registrano E dico tutte I 100 fotogrammi al secondo Almeno in full HD Rimane almeno Il sistema di messa a fuoco veloce E preciso Che il dual pixel autofocus Almeno quello Gliela diamo per vinta E un'altra cosa Molto interessante Che ha questa macchina Che ad esempio Alcune concorrenti Non hanno Faccio ad esempio Sony E l'uscita 10 bit All'uscita in 4K Ultra HD 10 bit Non compressa In HDMI Quindi è possibile mettere Come un po' per la Nikon Z6 Possibile mettere Un registratore esterno E poter registrare In 10 bit Non compresso In Ultra HD Ma veniamo un pochino Al mio parere Vi ho parlato adesso Finora vi ho parlato Del corpo macchina E della camera Ma Qual è il mio parere? Ve la consiglierei Questa IOS R? Allora diciamo che È una gran macchina È una gran mirrorless Ed è Una macchina molto interessante Perché ci fa capire Quello che sarà il futuro Di casa Canon Perché Con questo sistema Canon sta cambiando Le carte in tavola Almeno per la sua line up Quindi ci ha fatto capire Che il sistema EOS M Sarà rivolto Prettamente Agli amatori Mentre il sistema R Sarà rivolto Ai professionisti Probabilmente Il sistema EF Non so se ancora Rimarrà in vita Non lo sappiamo ancora Probabilmente Lo scopriremo Soltanto vivendo Vi posso soltanto annunciare Che a febbraio Sappiamo che Canon presenterà Un nuovo corpo macchina Probabilmente Sarà O Una RS Una RR In teoria dovrebbe essere Per Parlare di un sensore Più grande Con più megapixel O addirittura Una RS Quindi Una macchina Che gestisca Una sensibilità Superiore Perché purtroppo Come il sensore Della 5D Mark IV Non può essere Comparato A quello Delle Sony Faccio esempio A7III A7SII Che gestiscono Gli ISO In una maniera Completamente diversa Non parlo Della 7SII Perché parliamo Di un formato Del sensore Completamente diverso Molti meno megapixel Ma anche Come la 7III A7III Che ho avuto E potuto testare Tantissimo Gestisce molto meglio Gli alti ISO Piuttosto Della Canon EOS R Che comunque Non si comporta male Anzi si comporta Molto bene Ma purtroppo Porta con sé I limiti Di un sensore Che purtroppo È un pochino Più datato Ultima nota positiva È che questa macchina Esce con Preinstallato Il Canon Log Il C-Log di Canon Che è il profilo colore Il profilo ufficiale Di Canon Per la registrazione In log Ad esempio Su 5D Mark IV Andava pagato A parte L'aggiornamento Un pochino come per le Panasonic Che il V-Log Ce lo fanno pagare A parte Solo Sony Ci infila Solo Sony Ti regala Il log Chissà perché Ma non vi ho ancora risposto Ve la consiglio Sì Assolutamente sì Se siete Canonisti E avete quindi Un intero Corredo Canon Potete tranquillamente Optare Per avere Questa come primo Addirittura Corpo macchina Perché fotograficamente È davvero Fenomenale Perché grazie A questo Potete tranquillamente Sfruttare Tutto il vostro Corredo Se invece Siete dei Neoprofessionisti Che vogliono Investire In un nuovo Sistema State tranquilli Che se acquistate Una di queste Siete perfettamente All'inizio Di un grandissimo Percorso Che Canon Sta facendo Per introdurre Tutta una serie di lenti Che tra le altre cose È già annunciato Annunciato che presenterà Che usciranno Tra il 2020 E il 2021 Molte lenti Con questo nuovo attacco Alcune non le ha annunciate Ad esempio il 70-200 Non l'ha annunciato ancora Ma probabilmente Lo farà E se anche fosse Che Annuncia Determinate lenti Per La EOS R Probabilmente Quelle per EF Caleranno di prezzo Ma con L'adattatore Che oggi viene fornito Nel kit ufficiale Secondo me Diventa molto interessante Anche perché Oltre ad aggiungere Un po' di peso E volume Al corpo macchina Questo adattatore Non fa perdere assolutamente Nessuna funzionalità Alla Alla lente Che state utilizzando Quindi È davvero molto Ma molto interessante Insomma Spero di essere stato Abbastanza esaustivo Con queste spiegazioni Io Vi ripeto L'ho provata Per qualche giorno Mi sono trovato Davvero davvero Molto bene È una camera Bellissima Con chi ho avuto Il piacere Di poterla provare Anche fuori Dalla camera Quindi fuori Dal video Ho discusso Con molti Con diversi colleghi E la ritroviamo Una camera Davvero 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 interessante L'unica pecca Probabilmente È il costo Leggermente alto Canon dovrebbe Ritoccarlo Un pochino In ribasso Per avere Una maggior Competitività Sul mercato Ma oltre questo Secondo me Funziona benissimo È una camera Che davvero Davvero Vale Ogni euro Speso Anche perché Parliamo di Canon Quindi C'è tutto un mondo Dietro Insomma Siamo giunti Alla conclusione Di questa Trafila Di questa Chiacchiera Sulla Canon EOS R Spero che questo video Vi sia risultato utile Se così è stato Potete condividerlo Con degli amici Che vogliono acquistare Una Canon EOS R Vi ricordo Che vi lascio Tutti i link Qui sotto In descrizione Se avete Se avete delle domande Potete scrivermele Qui sotto Nei commenti O addirittura Potete seguirmi Sugli altri social Non dimenticatevi Di iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto Perché come vedete Ci sono tante belle novità Cos'altro dirvi Io vi saluto E ci vediamo In un prossimo video Ciao Ciao Ti vediamo